Siamo qui, questo è Marco Ferretti e ho incontrato il Global Arab Business Meeting perché credo che sia un ottimo contatto dove possiamo interagirare contatti e idee e in realtà ho anche dato alcun supporto al Dr. Frank Richter in organizzare il Global Indian Business Meeting in Italia ma il mio interesse principale è nell'area, gli UIA e gli GCC in generale dove siamo presenti come pubblicità compagni di architettura e design e assistiamo italiani e europeanze a fare attività di business in l'Oriente Il mio interesse è stato molto fruttoso e la qualità delle intervenzioni è stata molto alta Stavo attendo a una sessione di Made in the Arab World dove abbiamo avuto un'intervento excelente da Thomas Sevcik e anche da Hamad Hamdan e da Saeed Albarawani che ci stanno raccontando come l'arabe sta lavorando per creare un'immagine forte in l'area quindi spero che possiamo avere più e più fruttose questa mattina e nelle prossime sessioni grazie grazie grazie